Investimenti importanti per la sanità marchigiana. Ingenti risorse, parte delle quali facenti capo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ridisegnano il quadro generale e aggiornano il masterplan dell'edilizia ospedaliera regionale. Ci sono tante risorse, ma a fronte di tante risorse ci sono tantissime richieste di un territorio che negli anni ha mostrato molte criticità proprio in questo aspetto, cioè nella risposta dei territori. Questa è una prima grandissima risposta a cui dovranno sommarsi nei prossimi mesi e nei prossimi anni interventi che vanno a completare e a definire questa cornice. Con questi interventi il cambio di passo è del tutto evidente. Si passa da una sanità baricentrica ad una sanità che garantisce il diritto alla salute su tutto il nostro territorio, dal nord al sud della regione, dalla costa all'entroterra, tra grandi e piccoli centri. 923 milioni di investimenti che prevedono, tra quelli più importanti, anche l'edificazione di nuovi ospedali, come quello di Pesaro, di Macerata e di San Benedetto del Tronto. Ma il cambio di passo si vede anche nella costruzione di sei nuove palazzine che saranno destinate a gestire le emergenze e urgenze nei nostri ospedali. Palazzine e ospedali alla terza del terzo millennio. I criteri sono stati quelli di individuare le case della salute precedentemente esistenti nella nostra regione, che adesso però si svilupperanno con il filone delle case di comunità, cioè le strutture che dovranno ospitare medici di famiglia, pediatri libera scelta, specialisti ambulatoriali, l'assistenza domiciliare integrata e tutti i servizi del territorio. Qui si tende a mettere insieme tutte queste risorse che sono sparse. Si sta creando questo secondo anello, che tende a mettere insieme tutte le risorse che sono esistenti. Io naturalmente ritengo che questo non soddisfa completamente la domanda, per cui bisogna abbattere il numero chiuso a medicina. Nei prossimi anni dobbiamo formare i medici che si servono insieme agli infermieri, dobbiamo aumentare i fondi per le scuole di specializzazione, senza cui la domanda che proviene dai cittadini potrà essere difficilmente soddisfatta.